e terza giornata del campionato di serie di girone H sono di fronte quest'oggi la Gelbison intanto sono partiti eh la città di Brindisi subito la Gelbison con Tedesco Tedesco prova la conclusione Tedesco subito una conclusione di Tedesco al primo lascia a Marsili palla nel fondo gol ha segnato il Brindisi a tre passa ci arriva Peschechera apre per Di Filippo Di Filippo in aria mette al centro gol esposito appareggiato per la Gelbison esposito appareggiato un'ingenuità della difesa del Brindisi Tedesco se ne va Tedesco viene anticipato rigore calcio di rigore tutto è pronto Tedesco contro Peschechera parte Tedesco gol gol veramente è un gol perfetto gioco ancora Gambino Gambino ha pareggiato il Brindisi intanto c'è stato un cambio se ne va Di Filippo Di Filippo ancora ci mette i piedi Peschechera da carotenuto sul retropassaggio di Vassallo Grimaudo ancora per Tedesco Tedesco si mangia un gol fatto Tedesco Camorani prova la conclusione Peschechera mette la palla al centro carotenuto calcio d'angolo ancora gol c'è il gol Gambino ancora un tocco sbagliato Gambino gol fischia l'albitro è finita il Brindisi e spugna il campo di guardia Lucania per la Gelbison una battuta d'arresto che fa riflettere comunque vediamo quello che succederà c'è ancora tempo niente precluso